Vanno implementate le attività previste dal decreto. Sono le parole del direttore generale dell'ASL Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo, intervenuto ieri mattina all'iniziativa Un albero per la salute all'ospedale Maresca di Torre del Greco. Parliamo di salute ma guardiamo anche al futuro di questo presidio ospedaliero. Che cosa si prevede per questa struttura? Questo ospedale sede di PSA pronto soccorso attivo e certamente vanno implementate tutte quelle attività possibili e immaginabili previste dal decreto 103 in ottica a quelle che sono le difficoltà che in questo momento viviamo per la carenza di medici. Per i sei posti di subintensiva a che punto siamo? Siamo a buon punto, siamo alle battute finali, spero senza fare date nei prossimi mesi di fare anche l'apertura ma senza inaugurazioni. Io sono uno che è abituato prima a risolvere il problema insieme ai miei professionisti, attivare il percorso e poi se è il caso si procede a fare altre cose. Concetti ribaditi anche dal neo direttore sanitario del presidio ospedaliero torrese Alessandra Gimigliano. Da poco lei fa il direttore in questo ospedale, quali sono le criticità da affrontare? È un ospedale che come sapete ha diverse criticità ma stiamo lavorando per mettere in atto quello che è previsto appunto dall'atto aziendale e dal decreto 103 della Regione Campania. In particolare su che fronte? Sul fronte sicuramente del potenziamento del pronto soccorso, dell'attivazione dei posti letto di subintensiva e di tutti quelli che sono previsti, di tutti i reparti che sono previsti appunto dal decreto.